La bandierina Ceravolo e allora calcerà direttamente in aria Sarno, pallone verso la porta, mette fuori per una difesa Ternana, poi Ceravolo si lamenta per un tocco con il braccio, alla fine sanzionato dall'arbitro. Calcio di punizione, intervento con il braccio, occhio perché c'è il giallo, il giallo ma è il secondo per Nolè che viene espulso. E anche qua devo dire che mi sembra sinceramente eccessivo il secondo giallo per Nolè. Non ero d'accordo sul rosso per Rodrigo Eli, ma assolutamente anche qua il secondo giallo per Nolè mi pare molto, molto eccessivo, molto. Si gioca 10 contro 10 dunque, trentesimo del primo tempo e Nolè che era già stato ammonito al ventitresimo per simulazione che c'era, si becca il secondo giallo per questo intervento. Diciamo che col braccio sinistro...